Ciao, oggi voglio fare un video un po' diverso, considerate il gatto appollaiato, ok, niente, un video un po' diverso, oggi vi porto a passeggio con me per Bologna, voglio fare un po' di acquisti, devo comprare il caffè, come potete vedere ho l'anespresso e devo andare a fare la figa in boutique in via d'Azeglio per andare a prendere il caffè, e assolutamente da Tiger perché voglio tipo spenderci una cifra, è un po' che non ci vado, ho bisogno di un po' di cosine e qualcosa da comprare, mi verrà sicuramente voglia, e aspettate, vorrei capire cosa sta fissando, ok, e poi niente, vediamo di fare un giro per Bologna, vediamo se sono in grado di fare un vlog come fanno le altre, e vediamo, fai ciao, ciao a P! Sì, vediamo, fai ciao a P! Ciao a P! 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 Grazie a tutti Dire che mi vergogno a filmare mentre giro è un complimento comunque Vamola Ah carini Ok Primo giro direi di aver fatto abbastanza Ora Giù per queste stradine ci doveva essere un negozietto a 99 centesimi Teoria Slalom tra la gente Giù per di qua tipo Sì c'è ancora Vediamo di spendere dei soldi anche lì dentro Vediamo Sì c'è un nuzzolino Oh Quante robine Sta venendo fame Dunque 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 Allora io devo trovare assolutamente Dei gessetti Uh Tickers No c'è più guante Voilà Ok Dopo aver Autobus Dopo aver sbaliggiato completamente anche un 99 centesimi Mi dirigo da Nespresso Devo solo comprare del caffè In realtà devo trovare anche una maglietta Un paio di magliette per il mio compagno Mio amoroso Non so in che negozietto andare Bus Scusate Trema tutto perché mi stavo grattando Dimenticavo È la giornata delle lauree Quindi si sentiranno tipo trombette in continuazione i coriandoli che volano E il prossimo che mi spara Vedi Qua ce n'è una Complimenti Il prossimo che tra l'altro mi suona la trombetta in un orecchio Gliela faccio ingoiare Però va meno lo stesso Questa per chi non la conosce la basilica di San Petronio E in sottofondo c'è ancora delle trombette È una cosa ghiacciante Ho aperto Casanova Non ci vado perché sono a spendere una cifra Ok Dopo aver speso Non so quanto In negozietti Andiamo direttamente a prendere l'autobus Torno a casa va là Perché se no continuo a fare dei danni E comprare della roba C'era anche Terra Nova Bene Direi che con questo concludo Quindi aspettatevi di vedere il video acquisti Che lo farò separatamente da questo Perché non ne vale la pena Continuo a sentirmi una mongola Con la gente che mi fissa Perché io parlo col telefonino E per il resto vi saluto Vi mando un bacio Ciao 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 Ciao